I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno tratto in arresto un 46enne già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia perpetrati contro la propria compagna convivente in stato di gravidanza. A far scaturire il provvedimento è stata la richiesta di aiuto della donna alla centrale operativa il cui operatore sentendo le urla e la voce affannata della mal capitata ha inviato d'urgenza una gazzella dei carabinieri e personale sanitario. I militari dell'arma hanno fornito quindi il primo intervento soccorrendo la donna che è stata trasportata viste le condizioni gestazionali al pronto soccorso di Termini Merese dove sono state scongiurate conseguenze negative per il nascituro. Al contempo personale della stazione carabinieri ha ricostruito l'accaduto ripercorrendo le varie fasi dell'aggressione e raccogliendo elementi utili per provare l'abitualità dei comportamenti violenti dell'uomo. Alla luce di ciò i militari hanno attivato la procedura prevista dal cosiddetto codice rosso contro la violenza di genere informando subito l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari dell'aggressore in un luogo diverso dall'abitazione coniugale.